Ciao a tutti, perdonatemi il disordine dietro, fate finta di niente. Oggi nuova apertura, nuovi acquisti di novembre, i primi acquisti di novembre, sperando che ce ne saranno altri, o se volete darmi qualcosa a voi, qua sotto vi lascio la mia wish list. Partiamo con questo, insieme nei film ci sono robe che non c'entrano un cazzo con i film, quindi perdonatemi. Iniziamo con questo, era l'ultima copia di sto film, ovvero Mother's Day, sono così orgogliosa dei miei ragazzi, non si dimenticano mai della loro mamma, film della Troma, degli anni 80, io amo la follia Troma perché aveva dei film dipendenti, slegati completamente dal mondo mainstream, sotto le grandi produzioni, prende e facevano il cazzo che volevano. E qua c'è scritto, miscela horror, commedia perversa, dramma, intimo e satira, oltraggiose senza perdere un colpo. Il giorno in cui lo stupro e l'omicidio diventeranno divertendo, Mother's Day sarà considerato una commedia. Un rapper e venge rispettoso di tutti i codici e le equazioni del genere. 1933, Fantasport of Best Film Noming. Stiamo a vedere com'è. Vi leggo la trama, dai. Terry e Charlie ricevono un passaggio da una vecchia signora, la cui l'automobile pare guastarsi nel mezzo di un bosco. Si tratta in età di una trappola ordita da una famiglia di psicopatici. Ick e Hadley, i figli della donna, uccidero brutalmente la coppia. Intanto tre amiche, Trina, Abby e Jackie, si preparano per il loro annuale appuntamento con il fine settimana misterioso. La metà è una sperduta aria boschiva di New Jersey. La meta, perdonatemi. Accampate se le ragazze praticano il nuoto e la pesca, ignorando di essere spiata da Ick e Hadley. Notte tempo, i due psicopatici attaccano le donne, legandole e imbavagliandole al fine di sottoporle ai loro giochi, sadici e davanti agli occhi della madre. Compiacente. Qua addirittura, che cazzo sarà? Non me l'aspettavo che era un revenge movie. Questo qua io lo volevo prendere in steelbook. C'era circa più di 23,90 euro, mi ricordo, 24 euro la steelbook Black Friday. Poi arrivato ora a 32, 30 euro. Ho detto, per 9 euro me compro il brue normale. Qua vedete il pronista di Stranger Things, lo sceriffo, che io apprezzo molto come attore. Ho preso il blu-ray normale. Amen. La notte alla vigilia di Natale, una banda di chimenei si intrufolo in una villa, trovandosi faccia a faccia con un avversario inaspettato, Babbo Natale, David Harbour, dai produttori di John Wick. Siamo a vedere le altre robe. Tappo per le orecchie, per non farmi rompere il cazzo quando dormo, perché vado a letto ogni volta tardi che è così. Allora. E leviamolo da cazzo pure questo. Perdonatemi, sto cercando un punto dove posarlo. E ora apriamo quest'altro. Queste sono cose per mia madre, per l'insulino, per chi, spero che nessuno ne soffra. Speriamo che ci soffrano chi se lo merita. Chi se lo merita, sì. Allora. Questo è un altro film della troma. Ovvero Nukem High, class of Nukem High, distruggono i loro corpi, corrompono i loro menti. E questa è la notizia buona, versione italiana. Qua c'è tutto. Stiamo a vedere un po'. Allora, la trama. A seguito di un incidente nella centrale nazionale Attigua, il college Tromville subisce una contaminazione. Dopo aver bevuto dell'acqua, una studente inizia a trasformarsi in un mostro. L'episodio viene però minimizzato dai dirigenti dalla centrale nucleare. Le lezioni continuano normalmente. Ma nella centrale si coltivano anche delle marijuana con cui il gruppo di studenti denominato i cretini, appure, convenzionano uno spinelli chiamato lo sballo atomico, bro. Durante una festa, il gruppo vende uno di questi spinelli a una pudica e timida coppia di ragazzi, Warren e Chrissy. Una volta fumato, i due hanno un intenso rapporto sessuale e iniziano ad avere delle allucinazioni. Boh, non lo so. Non lo so. Staremo a vedere. E questi sono gli acquisti di novembre. Fatemi sapere un po' la vostra, se le avete viste o non le avete viste. Se vi sono piaciuti questi primi acquisti di inizio novembre. Penso che opererò altri film degli anni 80. Lo so che tanti durano in cima. Ma non i ricontri di DVD, tu così colatici. Ehi, Blu-ray, Blu-ray 4K, eh? Ragazzi, questi film sono, anzi, per miracolo che arrivano in DVD e non comprarli sarebbe un delitto, secondo me. Sarebbe sbagliato. Bisogna sempre sostenerli. I film e poi sono film che non si trovavano. E chi li ha portati, io davvero, sono stati dei grandi. Digit Movies Cinema. Meno male che si sono occupati di questa cosa e l'hanno portati perché erano dei bei cult di quegli anni. Mi mancano, sono usciti tanti i film della troma, ho visto che ci sono tanti i film, però alcuni sono ancora, cioè sono stati diciamo non doppiati. Tipo questo qua, l'audio è in inglese. Cioè questo qua non è italiano, l'audio è in inglese. E vabbè, ci passeremo sopra. Forse a quei tempi non non li traducevano questi film, hanno tradotto poco e niente. Ne uscì uno proprio un casino. Poi non so se sapete, anche James Gunn ha lavorato, no? Ha fatto Troma? Troma? Tromeo? E Julie. Romeo e Juliet, però versione horror. Non so se lo sapevate, ma penso di sì. Ormai con il Guardiano di Galassia, James Gunn è nella bocca di tutti, ora pure capo della DC che va diciamo ad amministrare il tutto, quindi è impossibile non conoscerlo. Io come sempre vi ringrazio a tutti. Se vi va lasciate un mi piace, un commento e se vi va iscrivetevi al canale se vi piacciono anche questi contenuti, anche altre recensioni, eccetera, top. C'è un po' di tutto qua nel canale. Io vi ringrazio nuovamente e ci vediamo al prossimo video. Ciao!